Oggi come Cantine Ferrari dobbiamo avere la forza, la voglia di tornare protagonisti ad Expo. Il fatto che torniamo da protagonisti è suggellato dalla scelta di Padiglione Italia perché noi siamo il brindisi di Padiglione Italia. Il brindisi con cui sono stati accolti i capi di Stato il primo maggio, siamo il brindisi con cui vengono accolte le delegazioni da tutto il mondo, in visita a Expo e quindi in visita presso Padiglione Italia. Abbiamo voluto suggellare il nostro legame con Padiglione Italia e questo è il fatto di essere stati scelti come brindisi del Padiglione Italia vestendo prima di tutto il nostro Ferrari Brut. Il Ferrari Brut è per noi l'etichetta simbolo, è il Trento Doc non millesimato, è l'icona di Ferrari. Noi tutti alle Cantine Ferrari sappiamo che ogni anno la nostra sfida è prima di tutto fare in modo che ogni bottiglia di Ferrari Brut sia una bollicina di eccellenza. In questi sei mesi, durante l'esposizione internazionale, il Ferrari Brut sarà vestito con i colori dell'Italia ma soprattutto con questo motto che Padiglione Italia ha identificato, questo motto Orgoglio Italia e vedete che oggi già si trovano queste bottiglie in tutto il paese e non solo.